Operazione dei finanzieri del comando provinciale di Palermo, che hanno sequestrato circa 11 chili di cocaina, era nascosta in un'auto che è stata controllata nei pressi dello svincolo autostradale di Bonfornello, in direzione Palermo. L'auto è stata fermata, successivamente scattata l'identificazione del conducente, il quale nel corso delle operazioni si è mostrato particolarmente nervoso e agitato. Pertanto i militari hanno subito effettuato una più approfondita perquisizione del mezzo, scovando all'interno del serbatoio dell'auto, grazie al fiuto dei cani antidroga del gruppo pronto impiego di Palermo, dieci involucri avvolti in buste di cellofan trasparente, per un peso complessivo di 10,9 chili di cocaina. Il corriere della droga proveniva dalla Calabria ed era diretto a Palermo. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa un milione di euro. Il corriere di nazionalità italiana è stato tratto in arresto e portato alle pagliarelli. Il giudice ha poi disposto la misura cautelare dei domiciliari.